Sono Davide, ho 19 anni, sono un perito meccanico e mecatronico dell'azienda FACE Motion Control di Genova. Ho frequentato un istituto tecnico con la qualifica di perito meccanico e mecatronico e grazie ad esso sono riuscito a realizzare questa sedia a rotelle in grado di salire e scendere rampe di scale e di percorrere sentieri sterrati telecomandata o tramite comandi vocali o tramite il joypad. In quarta superiore ho iniziato a buttare giù un'idea degli schizzi e in quinta sono riuscito a realizzarla. Poi un giorno è successo che il mio professore mi ha parlato di un progetto che si chiama Tecnicamente organizzato da ADECO che mira a far incontrare i ragazzi di quinta superiore con le aziende e di conseguenza di inserirli nel mondo del lavoro. Ho partecipato al concorso e ho vinto. Tecnicamente mi ha permesso di trovare lavoro dopo tre mesi dal mio diploma e quindi di essere anche autonomo. Nell'azienda in cui lavoro mi occupo di disegnare tramite un software e di progettare motori elettromagnetici e ogni tanto dopo aver modificato e progettato i motori vado giù nel laboratorio e li testo. È proprio quello che avrei voluto fare.